L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft Xbox preoccupa molto Sony. Infatti quest'ultima dichiara che Xbox Game Pass sta crescendo troppo. Recentemente l'antitrust brasiliana ha convocato Sony per esprimersi riguardo l'imponente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. E come era lecito aspettarsi la casa nipponica si è schierata contro l'acquisizione sostenendo che non esiste nessun gioco al mondo come Call of Duty capace di vendere milioni di copie e anche perché no una possibile esclusività del gioco su Xbox che sarebbe in grado di danneggiare di molto PlayStation. Tuttavia più volte Microsoft ha affermato che intende onorare tutti gli accordi commerciali tra Activision Blizzard con Sony oltre alle volontà di mantenere come brand Call of Duty sulla piattaforma PlayStation. Infatti l'obiettivo principale di Microsoft è quello di arricchire l'Xbox Game Pass che grazie all'acquisizione di Activision potrà vantare di un notevole aumento di titoli nel catalogo. Ma preoccupare Sony non è solo una possibile esclusività di Call of Duty ma anche della crescita inarrestabile dell'Xbox Game Pass. L'azienda giapponese ha infatti aggiunto dicendo all'antitrust brasiliana che il Game Pass sta crescendo troppo parlando addirittura di un possibile monopolio. Le autorità brasiliane hanno convocato poi altri grandi publisher legati al mondo videoludico e non solo tra cui Ubisoft, Warner Bros, Apple, Amazon e tanti altri e le aziende si sono dimostrate a favore di Microsoft con Ubisoft che smentisce quanto detto da Sony su Call of Duty ricordando l'esistenza di Battlefield, PUBG, Apex Legends, Rainbow Six come alternative allo sparatutto di Activision. E ad esempio il gigante dell'e-commerce Amazon dichiara per esempio di non avere abbastanza informazioni per esprimersi sull'acquisizione. E la situazione ora come ora sembra essere questa. Diteci intanto voi cosa ne pensate riguardo l'acquisizione di Microsoft per quanto riguarda Activision Blizzard. Ditecelo nella sezione dedicata ai commenti. Noi vi consigliamo pure di entrare nel nostro gruppo Telegram dedicato alla community di Tech Games Italia per discutere in prima persona delle news di cui parliamo giornalmente sul nostro sito web e in descrizione trovate tutti i link riguardo i nostri social network. Perché Tech Games Italia è un po' da tutte le parti ecco. Noi ci vediamo come al solito sempre qua sul canale e alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.